Salve a tutti e benvenuti a questo appuntamento con Globus Sport News da Gianluca Virgilito. Apriamo il nostro notizierio sportivo parlando della Serie A. Giornata di presentazione in Casa Palermo, conferenza stampa di rito per il neodirettore sportivo del club Nicola Salerno, che si è detto fiducioso circa l'esito del campionato in corso. Obiettivo salvezza difficile ma non impossibile da raggiungere. Il lavoro definito come unico strumento attraverso il quale sovvertire i pronostici negativi. Il mercato porterà ancora qualcosa a mister Eugenio Conrini che comunque, nonostante le sirene di un esonero che sembrava annunciato ma che non si è materializzato, continua ad allenare i suoi ragazzi. Prosegue dunque la marcia di avvicinamento al match di domenica pomeriggio contro l'Inter per il Rosanero. Al tenente onorato di Bocca di Falco, doppia seduta d'allenamento. In mattinata per la squadra di Corini esercizi in palestra. Nel pomeriggio invece lavori tecnico-tattici in campo. La seduta si è conclusa con una partita in porzione ridotta del campo. Vitiello ha lavorato regolarmente con i compagni. Raikovic e Sellai si sono sottoposti invece alle cure dei fisioterapisti. Anche a Catania conferenza stampa di presentazione. In questo caso per il nuovo calciatore Ivano Baldanzeddu, che attore del Grifo ha parlato di sé e della squadra rossa-azzurra. Anche il mercato, la fada padrona, è ruota sempre attorno al ruolo dell'attaccante. Una vecchia fiamma del club, intanto, sbarca il Bassano Virtus. Parliamo di Urban Zybert, che già quest'estate sembrava in procinto di accasarsi alle falde dell'Etna. Salvo poi fare marcia indietro per accettare le advance della Juve Stabia. Ma tornando ai volti nuovi in casa Etnea, ecco a voi di seguito il servizio di Alessio Unicotra. Cosa ti ha convinto del progetto del Catania? Qualche società c'era che ha chiesto informazioni. Però, quando si è presentata l'offerta del Catania, sono stato voluto così fortemente dal direttore Lomonaco e dal direttore sportivo Arugurio. Non potevo dire di no, anche perché c'è un progetto di crescita. E quindi ho voglia di mettermi in gioco e questa è l'occasione a prendere al volo. Spazio adesso al tennis. Arriva la prima grande sorpresa dell'Australian Open 2017. Il numero due del mondo, Novak Djokovic, infatti viene battuto in cinque set dall'uzbeco Denis Istomin, centodiciassettesimo del ranking ATP. Il serbo ha perso il primo parziale al tie-break, prima di aggiudicarsi i due successivi set col punteggio di 5-7 e 2-6. Sembrava normale amministrazione, invece un calo di tensione dell'ex leader mondiale, seguito da una notevole crescita di fiducia dell'avversario, hanno portato Istomin ad aggiudicarsi il quarto parziale 7-6. Ed il set decisivo per 6-4. Tutto facile invece per il canadese Milos Raonic, altro big impegnato nella nottata, che si è sbarazzato in tre set 6-3, 6-4, 7-6 del lussemburghese Müller. Il prossimo avversario di Raonic sarà il francese Simon. Mondo dei motori in lutto. Mario Poltronieri, storico telecronista dei maggiori campionati audio-moto, si è spento ieri nella sua casa di Milano, all'età di 87 anni. Nato il 23 novembre del 1929, prima di iniziare la carriera televisiva, fu pilota e poi collaudatore dell'Abbart, tra il 1954 e il 1957, collezionando record su record sulle curve del circuito di Monza. Iniziò a lavorare in televisione nel 1961, occupandosi di baseball, per poi diventare nel 1971 la voce storica delle quattro ruote. Da lì centinaia di telecronache, non solo di Formula 1, ma anche di moto mondiale, raccontando nella sua carriera, insieme a Enzio Zermiani e Gianfranco Palazzoli, le geste di grandi piloti, da Stuart a Schumacher, passando per i trionfi di Giacomo Agostini e Niki Lauda. Divennero celebre le sue telecronache, forse un po' lente, pagate e caratterizzate da lunghe pause, influenzate sicuramente dal fatto che ai tempi sui circuiti, in molti punti, rimanevano letteralmente scoperti dalla copertura delle telecamere e quindi era impossibile raccontare ciò che accadeva. Dopo l'esperienza in Rai, iniziò a lavorare per Odeon TV ed Eurosport fino al 1996, quando andò in pensione. I funerali saranno celebrati venerdì in forma privata. Cambiamo adesso argomento. Al centro di preparazione del CONI, a Roma, si è svolta la riunione programmatica della seconda divisione FIDAP. Parliamo quindi di football americano, dove è stata approvata la struttura del campionato e le principali dinamiche. La seconda divisione FIDAP Season 2017 vedrà 24 team partecipanti che coprono l'intero territorio italiano. Le squadre sono state suddivise in sei gironi da quattro, con otto partite di regular season e due partite interdivisionali per ciascun girone. Il campionato prenderà il via il 25 febbraio e terminerà con il bowl del 7-8 luglio. Le prime due squadre di ogni girone staccheranno un biglietto per la fase dei play-off. Le prime quattro del ranking approderanno direttamente ai quarti di finale, mentre le altre otto squadre si affronteranno in un turno di wild card. I criteri per stabilire il ranking terranno conto del record percentuale, della difficoltà degli incontri vinti, del peso del girone e di un eventuale sorteggio. Ai nastri di partenza anche gli Elephants Catania. Continua il conditioning atletico del senior team della squadra con Stefano Di Tunisi, mentre continua il lavoro alla parte tecnica e tattica con Gianmarco Pecoraro e Renato Gargiulo. Il tutto sotto l'attenta supervisione di Alfred Zappalà. Le sessioni di allenamento in questa fase sono molto articolate, perché il reparto offensivo e quello difensivo stanno lavorando ad un nuovo assetto tattico, con l'inserimento di nuovi atleti dalle giovanili e dal centro reclutamento in un giusto mix con i giocatori senior. Il livello organizzativo degli Elephants sta portando i suoi risultati sia in termini di visibilità e promozione della nostra disciplina, sia per tutti i ragazzi e le ragazze che si stanno avvicinando alla squadra. Infine, il basket. La Polisportiva Alfa ha ufficializzato il tesseramento del giocatore Enrico Verzi. Il cestista, 205 cm di altezza, classe 84, arriva dallo Sport Club Gravina del presidente Natale De Fino. Verzi rafforza il reparto lunghi della Polisportiva Alfa e prende il posto di Riccardo Arcidiacono, che per motivi personali ha lasciato la formazione allenata da coach Andrea Bianca. Il nuovo centro alfista è cresciuto nel grifone Catania, poi ha maturato importanti esperienze a Trieste e a Patti, in serie B1 ed ha giocato anche con Cusbari, Foggia e Gela. A Gravina è approdato nel 2010, vestendo la casacca dello Sport Club fino a gennaio 2017. Verzi ha ottenuto con i gravinesi due promozioni, una dalla serie C2 alla DNC e un'altra dalla C2 alla Cisilver. Sabato sarà disponibile per il match casalingo dell'Alfa, che ospiterà a Leonardo da Vinci la studentesca Licata. Ed era questa l'ultima notizia di quest'edizione. Per rimanere aggiornati sulle più importanti notizie dal mondo sportivo, vi invitiamo a collegarvi sulla nostra pagina globusmagazine.it. Grazie per averci seguito, alla prossima! Grazie per aver guardato il video! 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 Grazie a tutti.